La magia della Natale illumina Piazza Guido Monaco con la consueta accensione dell'albero di Natale alla quale quest'anno si affianca anche una rappresentazione della Natività. Tantissima gente, in realtà non me l'aspettavo, è un bellissimo successo, evidentemente c'è tanta attesa, anche la curiosità forse di vedere quello che faremo oggi, sicuramente anche la voglia di prendere qualche chicco della Perugina che ringrazio nuovamente per averci sponsorizzato questa iniziativa e vedremo, vedremo, tra un pochino accenderemo l'albero, siamo tutti in trepida attesa. Ci sarà una illuminazione particolare che richiama proprio alla giostra, quindi verrà dedicato l'albero principalmente ai quartieri, quindi alla nostra città e poi ci saranno tutta una serie di giochi luminosi, molto particolari, è un'illuminazione che abbiamo trovato, riperito qualche settimana fa, che è molto più particolare rispetto a quella degli anni scorsi perché di fatto diventa uno schermo a LED, è possibile programmarlo, scriverci e rappresentarci qualsiasi cosa. Questo albero di Natale, questo grandissimo albero di Natale, ormai è diventato un classico per la città di Arezzo? Un classico è il secondo anno, l'anno prossimo abbiamo già un'idea ancora più particolare, vedremo poi se e chi la realizzerà.